E di 20 feriti, fra cui 15 poliziotti e due adolescenti, il bilancio finale dell'attacco kamikaze avvenuto lunedì a Tunisi sull'avenue Bourguiba. La tentatrice era sconosciuta alla polizia, il suo nome sarebbe Muna Kebla, aveva 30 anni, era laureata e disoccupata, originaria di Sidi Alouan, area rurale con alto tasso di povertà. Si è messa dietro una camionetta della polizia e si è fatta esplodere, racconta un agente. Il fatto che la donna indossasse una cintura esplosiva artigianale ha evitato conseguenze ancora più drammatiche, dati il luogo e l'ora, una via centralissima affollata di cittadini e turisti, alle 2 di pomeriggio. Stavamo lavorando nel nostro albergo, abbiamo sentito una donna gridare forte e poi un'enorme esplosione. Sono uscito fuori e ho visto del fumo, sono andato avanti e c'era una donna a terra, racconta un testimone. L'attentato ha fatto ripiombare la Tunisia in un incubo, dopo 3 anni di relativa calma. Nel 2015 22 persone vennero uccise in un attacco al Museo del Bardo, nella capitale, fra loro c'erano 4 turisti italiani. Tre mesi dopo ci fu la strage in spiaggia Assus, che fece 38 vittime, e poi a novembre un attacco kamikaze al bus delle guardie presidenziali, in pieno centro a Tunisi, che uccise 12 persone. Da allora vige ancora lo stato d'emergenza, che conferisce poteri straordinari alle forze dell'ordine. Pensavamo di aver sradicato il terrorismo, ora spero che non sarà il terrorismo a vincere su di noi, perché in Tunisia c'è un brutto clima politico. È stato il commento a caldo del presidente Bejaide Sebsi, che ha invitato tutti i partiti a mettere da parte le divisioni, a cessare la lotta per le poltrone e a unire le forze per garantire la sicurezza dei cittadini. La Tunisia stava finalmente tornando ai livelli pre-rivoluzione per quanto riguarda il numero di turisti. Il governo si attendeva entro la fine dell'anno oltre 8 milioni di visitatori. Ma questo nuovo attacco torna a minare uno dei settori più importanti per l'economia del paese.